Buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Rieti Life, tutta l'informazione di Rieti e provincia su rietilife.com, facebook e instagram. Un pusher egiziano è stato arrestato dai carabinieri, notato con fare sospetto nel centro di Rieti, è stato perquisito e se addosso i militari gli hanno trovato quantità modeste di droga, cocaina, maricuana e hashish in prevalenza, in casa i militari hanno trovato quasi 50.000 euro in contanti nascosti in una borsa, definiti provento dello spaccio in centro città. Pregiudicato, l'egiziano è residente a Roma ma domiciliato proprio a Rieti. È l'ennesimo arresto che si registra nel capoluogo e in provincia relativamente alla droga contro la quale quotidianamente ogni forza dell'ordine si batte. Colpo martedì, in pieno giorno appoggio Bustone. Il ladro e i ladri si sono introdotti in un complesso con più appartamenti sapendo di non trovare i proprietari, portati via in un alloggio con tanti e orologi per diverse centinaia di euro. Più che per il furto, mettono in guardia le vittime del colpo, vogliamo allertare i concittadini e tutti coloro che possono trovarsi nella nostra condizione. In paese in questi giorni ci sono movimenti strani, continuano ancora coloro che hanno subito il furto e si registra la presenza di persone che si inquadrano. Difficilmente sono le parole rilasciate alla nostra testata. Il tutto è stato ovviamente denunciato ai carabinieri. Ennesimo episodio di una lunga scia che il comitato sicurezza in prefettura ha collegato proprio alla droga. Chi ruba lo fa per avere soldi utili a consumare e a spacciare stupefacenti. È morto questa mattina a Madonna del Cuore Mario Figorilli, storico carrozziere della città. L'ho accolto un malore improvviso mentre era in casa e a nulla sono valsi i soccorsi. Figorilli aveva 74 anni, originario di Contigliano ed era molto conosciuto sia in tutto il quartiere che ovviamente nella città a Rieti per le sue doti umane e professionali. Titolare insieme ad altri soci della storica carrezzeria RCA in via Salaria insieme ad altri ha segnato un'epoca nelle riparazioni auto. Lascia la moglie Maria Luisa e i tre figli Andrea, Melania ed Elisabetta. Da Rieti Life sentite condoglianze alla famiglia Figorilli. Una strage in piena regola con quattro vittime. Un gesto figlio della follia, quello di Claudio Campiti che ha sparato e ucciso durante la riunione del consorzio delle case di Ascrea nelle quali anche lui viveva in condizioni di assoluto degrado. Era a metà dicembre 2022, sono passati tre mesi da quella tragedia, Campiti è in carcere ma nessuno riderà ai familiari le quattro persone uccise dalla pistola del killer di Fidene. Per commemorare le vittime il comitato di Colle Salario ha installato al ridosso del chiosco dove è avvenuta la tragica esecuzione delle quattro donne nella riunione del condominio del consorzio Valleverde una targa affinché la follia e il dolore non vengano dimenticati. Un pomeriggio per condurre gli spettatori nel mondo degli strumenti a percussioni. Domane a partire dalle 18 a Largo San Giorgio arriva il secondo appuntamento della rassegna La Primavera è uno spettacolo della Fondazione Varrone dal titolo appunto Ripercussioni. Un quartetto di nomi illustri provenienti da differenti culture musicali per far conoscere ed apprezzare le melodie prodotte da strumenti a membrana, tastiera, i metallofoni ed i legni, declinate nei diversi generi musicali da cui provengono i musicisti protagonisti dell'incontro. Appuntamento nell'ex chiesa di Largo San Giorgio alle 18 con ingresso libero fino all'esaurimento posti. Il reatino Daniele Tiberti, collaboratore e stagista di Rieti Life TV, si è laureato all'Accademia di Belle Arti di Roma in Teorie e tecniche dell'audiovisivo con una tesi dal titolo Stefano Colasanti, storia di un eroe comune. Tiberti, 24 anni di cittaducale, ha voluto suggellare il suo percorso formativo nell'università romana con un documentario sul vigile del fuoco morto nel 2018 sulla salaria nell'esplosione di un autocisterna al distributore IP di Borgo Santa Maria. Il lavoro di Tiberti si è concentrato molto sulla testimonianza di Benedetta, la figlia di Stefano. Realizzare questo documentario di intervista è stata un'esperienza davvero incredibile, profonda e piena di emozioni, ha scritto Tiberti sui social. Da tutta la redazione di Rieti Life, complimenti sinceri all'amico e collega Daniele Tiberti. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale che torna domani, sempre alle 20.45. Rimanete informati sui nostri canali, ovviamente i siti rietilife.com, Italia Life 24 e Terni Life, nonché i social Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, sono sempre aggiornati. Tra poco disponibile dunque dalle 21 strategicamente una nuova puntata per andare a scoprire tutti gli angoli anche più nascosti della mente e domani sfogliate Rieti Life Free Press, il nostro quotidiano cartaceo gratuito. Lo trovate nei consueti punti di distribuzione e ovviamente nelle migliori edicoli di Rieti. Grazie per averci seguito, buona serata. Grazie per averci seguito, buona serata.